abbiamo preso gli odori, basilico, un pezzetto di pane casaleccio dei tipo calippo, sorbetto per mio figlio, poi delle percose, yogurt all'ananas e al caffè, una scamorza hamburger di tacchino col rosmarino, del macinato, una cassosa, poi dello speck, delle pesche, yogurt alla fragola, mele, una provola, pesce, questi sono i filetti di surini al granchio, buono per le insalate, due banane, questo è prosciutto crozzo, crudo, due mercolini, pomodori per l'insalata, un attimo, due pepsi, una bottiglia di olio per friggere, due passate tagliamonte, una e due, la birra peroni, vino bianco, vino bianco, poi una panna della grana ruolo, un energhed all'arancia e una bottiglia di latte puro blu. continuando, allora, uova, pesca, una provola, formaggio, questo è l'asiago dop, poi abbiamo le salsicce con tacchino e pollo, mele verzi, mele melinda, che stavo dicendo? mozzarelline, ciliegine di mozzarella, ciliegine di mozzarella, salte di mare sul gelato e una bottiglia di prosecco, questo è quanto alla prossima? Ciao ragazzi! un nuovo spezzone su della stessa al tonico, allora abbiamo preso la rucola, insalata, due, poi abbiamo preso tonno, basilico, pere, prugne, ciliegine, di mozzarella, pomodori per l'insalata, mele melinda, pesche, banane, un pacco di farina, dei pomodorini, un'altra confezione di tonno e infine una melanzona. alla prossima, ciao ragazzi!